è indispensabile come stavamo dicendo prima della sostenibilità prima ancora quindi recupero una cosa che mi è stata insegnata molto da mia mamma essendo contadina di origine contadine per lei buttare era uno spreco inconcepibile poi vabbè lei contadina ma ha passato il dopoguerra perché un po di anni quindi recuperare quello che è sempre recuperabile cucina buttare significa non saper lavorare principalmente